Una classe di ricordi archeologici, tra i più significati della battaglia di Egadi, consiste in rame di guerri. I rame di guerri sono reali uomini di guerra. Posizionati sul basso di un bar, la rame era usata per irreparabili ammigliare e poi ammigliare navi. I rame di punica e romana potrebbero essere molto simili in forma e maggiore, però presentano piccole variazioni in maggiore. Questo è per il fatto che hanno stato forzati individuamente a essere posizionati sul basso di un bar specifico. I loro misuramenti sono, comunque, abbastanza simili e questo potrebbe indicare che i rame devono essere posizionati sui barri della stessa classe. Grazie a tutti!